Il campionato di tutti si aspettavano, però dobbiamo stare tranquilli e ora pensare alla partita di stasera che è una partita importante e cercare di ripassare il torno a tutti. Come si spiega un rendimento così diametralmente opposto tra le coppe e il campionato? No, sinceramente non lo so, però so solo che settimana ci stiamo impegnando per riportare in campo le cose che ci chiede il mister. Sappiamo che con la Fiorentina non è stato fatto e quello era il ramarico più grande. Però ora bisogna abbattersi, bisogna alzare la testa e ognuno di noi di mettere qualcosa in più perché non possiamo stare in quella posizione in classifica.